Attraverso la fiera dobbiamo in qualche modo arrivare a continuare a comunicare attraverso la rete ma per fortuna torniamo in presenza. Sì, assolutamente felicissimi di essere qua a Fipe, di essere presenti proprio fisicamente. Abbiamo appena fatto un talk bellissimo organizzato appunto da Fipe dove abbiamo presentato il nostro progetto. Dovevo parlarne, cosa consiste questi vostri due progetti? Sì, allora Gourmix è una start-up che nasce per supportare i ristoratori in tutto ciò che è offerta digitale per cui noi gli aiutiamo nel costruire digitalmente la loro pagina e significa poter andare in modo molto veloce sui propri canali social, Facebook, Instagram avere contezza di quelli che sono gli utenti per cui gestirli come se fossero una vera propria community. Abbiamo pensato però parallelamente che l'elemento del digitale non fosse sufficiente e abbiamo introdotto anche quello della sostenibilità. Quindi il progetto è anche quello di Sustainability che sarà una piattaforma integrata in Gourmix dove i ristoratori potranno in modo molto semplice e agevole dare contezza di tutto ciò che fanno in ambito di sostenibilità con un processo che sarà validato e certificato. Sostenibilità è un po' una parolina magica molto abusata, non vorremmo fosse una cosa molto leggera cioè sostenibilità è una cosa seria. Ecco innanzitutto cosa intendete per sostenibilità? Sostenibilità significa poter dare contezza di tutto ciò che il ristoratore fa partendo dalla costruzione del suo piatto che significa mappare i propri fornitori e tutto ciò che avviene all'interno del locale e tutto ciò che avviene nella fase di preparazione. Per poterlo fare noi ci siamo costituiti anche con un comitato scientifico che è composto da biologi, medici e da uno chef che insegna anche tecniche di cottura per cui recepiamo tutti i parametri che i ristoratori utilizzano questi parametri noi gli mettiamo all'interno di un framework che dà un'informativa cosiddetta ISG per cui ambiente, governance e società questo framework verrà pesato per il settore di appartenenza quindi per la ristorazione e ci sarà quindi per rendere questo processo serio una validazione, la stiamo facendo con un partner internazionale con uno dei più grandi certificatori al mondo che è Buro Veritas. Ecco, una sorta di disciplinare che naturalmente vediamo anche nell'agroalimentare noi abbiamo già dei comportamenti molto severi nel campo noi ci occupiamo di agricoltura solitamente e questo ci assomiglia molto quindi potrebbero anche rintracciarsi e intrecciarsi queste esperienze? Assolutamente sì, quello che noi abbiamo fatto è stato uno studio inizialmente di tutto ciò che il ristoratore oggi ha a disposizione per potersi dire sostenibile ed è un universo molto variegato che vanno dalle etichettature, quindi i cosiddetti label alle certificazioni, alle normative ISO eccetera eccetera quindi un mondo molto frammentato l'idea nostra è quindi quello di semplificarlo lei ha utilizzato il termine disciplinare ben venga, ci stiamo ragionando se questo può facilitare il settore sicuramente quello che noi facciamo è dare una tecnologia che sarà quindi molto facile da utilizzare per il ristoratore ma soprattutto molto facile da intuire per l'utente finale perché come si diceva oggi è il talk di oggi e l'utente è sempre più attento a queste tematiche ecco, quindi deve un po' cambiare un po' anche il comportamento del ristoratore dagli acquisti al rapporto con i clienti sì, allora noi può rimanere quello di prima lo deve cambiare naturalmente ma più che cambiarlo allora noi abbiamo visto che comunque i ristoratori hanno un'attenzione molto particolare ad esempio a tutto il mondo dei fornitori e magari senza che neanche se ne accorgano attuano delle pratiche chiamiamole di sostenibilità quindi secondo me non si tratta tanto di cambiare stravolgere ma più che altro magari di perfezionare ed efficientare delle pratiche che magari se messi in atto con dei passaggi molto semplici possono dare un risultato estremamente positivo ma soprattutto è quello di poterlo comunicare di saperlo comunicare e qui sta la grande sfida a me piace il suo modo di fare nella sua esposizione anche mi piacerebbe che questo messaggio arrivasse direttamente anche ai produttori perché i produttori non possono stare isolati e pensare solo a produrre noi abbiamo visto che in questo periodo comunque il produttore l'agricoltore è stato nei campi e ha continuato a consegnare delle rate alimentari ecco creare anche delle strategie possiamo chiamarle in una filiera ristorativa? assolutamente sì quello che le dice è estremamente importante perché parla di produttore e fornitori nel nostro framework quindi ISG ambiente sociale e governance quindi le modalità organizzative del ristoratore che attua ha un peso preponderante per oltre l'80% la mappatura dei loro fornitori quindi questo è un elemento estremamente strategico perché la risultante di questi tre fattori è data sostanzialmente da questo in questo modo noi in qualche modo potremmo con un gioco di parole valorizzare anche i territori italiani assolutamente sì tanto è vero questo è una la valorizzazione dei territori chiaramente se uno parte dalla quella che è la mappatura dei fornitori a cascata e cultura è quel carattere che si chiama appunto società dei fattori ISG e se non lo facciamo noi chi altro può farlo diciamo abbiamo talmente tanto da raccontare si tratta solamente di lavorarci e avere dei tools che veramente quindi degli strumenti che semplifichino la vita al ristoratore evidentemente il fatto che lei sia all'interno dello spazio FIMPE credo che sia proprio per questo quindi a noi piace anche noi di Agrilinea che ci occupiamo soprattutto di campo avere una relazione con voi che in qualche modo ci aprite anche un po' una finestra molto importante che è quella del consumatore ricordiamoci che quando abbiamo visto i ristoranti chiusi abbiamo anche avuto qualche difficoltà nelle vendite del fresco quindi riconosciamo la ristorazione come complice importante sì noi abbiamo visto ad esempio dei trend che c'erano già prima del lockdown se parliamo proprio di ristorazione con riferimento anche a quella che è la rivendita delle materie prime dei prodotti delle materie prime quello che infatti noi stiamo facendo come tecnologia supporto è quella di permettere al ristoratore di poter dare risalto al proprio fornitore questo perché perché molto spesso se tu parli di un piatto no gran parte del racconto è anche la materia prima con cui tu le ha fatto no per cui secondo me è estremamente importante in quest'ottica far sì che la materia prima ad esempio possa rientrare in un sistema di marketplace e quindi di rivendita anche da parte del ristoratore per rintracciarvi per rintracciarvi allora noi abbiamo un sito internet che è www.gurmix.com la nostra mail è info chiocciola gurmix.com comunque trovate se c'è poi un'inquadratura il sito qua sotto grazie 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 grazie